Fine dei doppi turni all'Istituto Montini di Campobasso, alunni e docenti prenderanno posto da lunedì mattina nella nuova sede della zona industriale del capoluogo. Vediamo. Per gli oltre 300 alunni dell'Istituto Montini di Campobasso le elezioni nelle nuove aule di via Giovanniti nella zona industriale della città inizieranno la mattina di lunedì, dopo domani. Si sono conclusi infatti le operazioni di trasloco degli arredi scolastici dalle vecchie sedi provvisorie per il nuovo edificio, quello che un tempo ospitava l'assessorato regionale alle attività produttive. Il plesso, diretto dal dirigente Agata Antonelli, si presenterà agli occhi del personale docente e dei ragazzi con spazi adeguati e aule in completa sicurezza per le attività educative. Fine degli orari pomeridiani, dei disagi patiti da tutti, famiglie comprese, e delle sedi staccate per l'Istituto Montini, a partire dalla settimana entrante fino al termine delle elezioni previste a giugno. Intanto l'amministrazione di Palazzo San Giorgio ha pubblicato il bando per la costruzione del nuovo edificio scolastico nel quartiere Mascione. La vecchia struttura sarà demolita, poiché ritenuta non più sicura, dalla fine del 2016, a causa delle anomalie riscontrate dai controlli tecnici, per lasciare spazio ad un edificio moderno e in grado di sopportare le sollecitazioni provenienti dal terreno.